bella ragazzi sono gdc youtube oggi ragazzi siamo qui per festeggiare diciamo un anno del canale gdc youtube in questo anno il canale l'ho aperto il 20 maggio 2020 oggi 20 maggio 2021 vabbè non so se questo video lo vedrete forse il video lo vedrete i primi di giugno grazie veramente per ancora supportarmi dall'inizio di questo canale perché siamo arrivati abbiamo 60 iscritti più di 130 video fatto quindi ragazzi arriveranno i video arriveranno i video del bari che anche del bari dei playoff non ho potuto registrare per nico la scuola però arriveranno anche i video di del bari in generale in cui raccontiamo come sono andati sappiamo poi tutti come è andata fine con il bari poi arriveranno tantissimi altri video che dovevo registrare spero al più possibile perché poi il tempo sta finendo la scuola quindi arriveranno molti più video di quelli che non ho non ho registrato praticamente e qua c'è pure la tazza del bari io continuerò ovviamente continuerò ovviamente a fare i video e ora oggi è appunto 20 maggio 2021 entro metà giugno entro la fine di giugno dobbiamo raggiungere almeno i 70 iscritti almeno i 70 iscritti ce la possiamo fare ovviamente anche se non succede fa niente tanto li raggiungeremo lo stesso quindi ragazzi siamo vicini alla tripla cifra cioè 100 iscritti quindi ragazzi vi ringrazio ora vi saluto bella